Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Allora, piccola pausa dalle recensioni dei fondi, perché? Perché nell'ultimo periodo sono uscite, secondo me, delle novità skin care veramente interessanti. Perciò ve ne parlo. Resta il fatto che Eteria e Alsan ha presentato, Alsan ha presentato delle novità pazzesche, ma di quelle vi farò un video a parte appena le avrò tutte. Quindi, alcune cose le ho ricevute, altre le ho acquistate, magari ve lo specifico di prodotto in prodotto. Dunque, primo brand di cui vi parlo, queste novità le ho ricevute tutte, sto parlando delle novità di Dr. Jart. Prima cosa, voi sapete quanto io adoro la linea Sicapeir, ve ne parlo da secolo a secolo, benissimo, c'era però un problema. La parte di trattamento non era sicuramente adatta a pelli misto-misto-grasse, perché era molto ricca. Bene, esce la The Suiting Power of Tiger Grass Gel, Calming Gel Cream. Quindi una gel cream che mantiene tutte le peculiarità della linea di trattamento, ma in una texture adatta a pelli miste-grasse. Quindi, bellissima idea, bellissimo arricchimento della gamma. Ed esce la maschera in vello, che si chiama Calming Mask, che va a allenire le pelli sensibili. Poi, sempre Dr. Jart arricchisce la linea Ceramidin, quindi la linea Le Ceramidi, e crea la Creme Mist. E alla fine che cos'è? È una mist, appunto, per il viso, che ha tutte le peculiarità di una crema di trattamento. E non vedo l'ora di provarlo, la prima quando c'è un po' più freddo, e ho bisogno proprio di struttura e di trattazione per la mia pelle. Velocemente, una cosa che ho comprato su sito di Sephora, che fa parte delle novità Glam Glow, che mi ha incuriosito tantissimo, è la Cool Sheet No Drip Hydrating Mask. Questa è una maschera idratante, rinfrescante e lenitiva, super instagrammabile, infatti ha tutte le stelline. Costa anche tanto, perché l'ho pagata, se non sbaglio, a 9,90, che è tantissimo per una maschera in monodose, però mi incuriosisce tantissimo, e quindi non vedo l'ora di provarla. Viene definita Cold to the Touch, idratante, che si può usare a casa o on the go, perché non ti casca, praticamente. È un idrogel lenitivo con Arctic Bilberry, ed è fortificata, si può dire, fortified, con glicerina, che è un umettante naturale per la pelle, fondamentalmente. Fresca l'applicazione, rinforza la pelle e lascia la pelle glowing, con 15 minuti di applicazione. Adoro. Ovviamente tutti questi prodotti poi li vedrete nei top, flop, scoperte, prodotti tremendi, senza filtri, come sempre. Poi, ah no, scusate, l'ultima novità di Dr. Jart è in realtà un arricchimento alla linea Shake and Shot, che sono le maschere fatte così di Dr. Jart. E questa però è la Rubber Purifying. Quindi adesso abbiamo anche la Purificante, sapete, sono quelle dove miscelate le due buste, le cichelate, le mettete e poi le rimuovete. E piacciono molto, sono belle anche da fare, non so, tipo un giorno, stai in casa con un amico o un'amica, sono molto simpatiche da fare. Quindi vedremo anche la Purificante. Poi, un'azienda che a me piace, lo sapete, ve ne ho già parlato, ho acquistato diverse cose, sto parlando di Glow Recipe, o Glow Recipe, ho sempre il dubbio, perdonatemi. Comunque è un'azienda coreana e in particolar modo io amo molto la loro maschera da notte, meno invece il fluido, perché è adatto a pelli grasse, il fluido viso 24 ore, ma adesso può essere abbinato al Pineapple Sea Brightening Smoothing Serum. Questo è un siero per il viso, appunto la vitamina C, che contiene pineapple, quindi ananas, vitamina C e camomilla, quindi anche lenitivo. Dunque, vediamo se c'è anche il taglio. Questo liquido leggero è formulato con tre tipi di vitamina C, tra cui il 22% puro succo di ananas, ho perso il filo, sì, eccolo va, e camomilla lenitiva per una pelle traslucida e illuminata come il vetro. Si applica uno o due gocce su pelle pulite, si tampona fino ad assorbimento, appunto viene definito sia illuminante schiarente che lenitivo, combo quindi perfetta per me, sapete che la vitamina C è uno di quegli ingredienti che io amo molto, con l'arrivo dell'autunno, nel post estate, quando la pelle poi, per mancanza di sole, per aver accumulato cellule morte durante l'estate con la bronzatura, eccetera, per il cambiamento del clima, quindi c'è più freddo, c'è meno luce, eccetera, la pelle si ingridisce, ha bisogno di essere revitalizzata, illuminata, ha bisogno di una bella dose di antiossidanti, è nel momento dell'anno in cui io preferisco l'utilizzo di vitamina C e quindi non vedo l'ora di provarlo. Ma rimanendo in ambito vitamina C, un altro prodotto che ho comprato che mi incuriosisce parecchio è di Trilogy, questo l'ho comprato su Look Fantastic, ed è il nuovo prodotto che si chiama Vitamin C Booster Treatment, quindi è quel prodotto che noi possiamo andare ad inserire nella nostra skin care routine, perché è un booster di trattamento. Allora, Freshly Activated Brightening Booster with Vitamina C and Hyaluronic Acid, quindi cosa facciamo? È un prodotto, vedete, che quando volete attivare dovete schiacciare e shakerare e attivate in quel momento la vitamina C, infatti va utilizzato entro due settimane dall'apertura, perché sapete che la vitamina C è uno degli ingredienti meno stabili in assoluto, se parliamo di trattamenti skin care, anche se esistono tantissime forme di vitamina C, quali più, quali meno stabili, quali derivate. Dunque, appunto, questo è un 6% di vitamina C in polvere, che viene attivata in una soluzione di acido hyaluronico concentrato. Cioè, può non incuriosirmi? No, non può. E tra l'altro questo brand, dunque, viene definito Natural Cosmetics Certified by Biogrow, no GM contro gli intesti sui animali, pecc reciclati e supporta l'ethical trade practices. Dunque, è un marchio made in New Zealand, interessante, e ovviamente a cosa si riferisce, a cosa, di cosa si occupa? Di incarnati spenti, ingregiti, che hanno bisogno di luminosità e di uniformità della cromia, oltre ovviamente di una dose di antiossidanti. molto, molto, molto curiosa. Rimanendo in tema di vitamina C, e questo invece è stato un gentilissimo omaggio da parte del brand, Pixi, guardate che bello, è uscito con tutta una linea a base di vitamina C, che mi è arrivata in questo porta pilloloni. Questa praticamente è una rotina incompleta. Che cosa abbiamo all'interno? Abbiamo il Vitamin C Juice Cleanser, contiene acqua di fiori d'arancio, 150 ml, ed è ovviamente illuminante antiossidante. Poi abbiamo, questo è il piccolino ma esiste anche grande, è il Vitamin C Tonic, quindi abbiamo anche il tonico, estratto anche di frutti. Poi abbiamo il Vitamin C Serum, che tra l'altro appena letto contiene vitamina C e acido ferulico. Voi sapete quanto io sono psicologicamente e praticamente dipendente dal Floretin CF di SkinCeutical, hanno anche il Ferulic, ci chiama C e Ferulic, norma del genere. Sempre SkinCeutical ha dei CA con il ferulico incredibili, ma hanno anche dei prezzi incredibili. Pixi ha un price point medio-basso in base poi al prodotto, il fatto che abbiano abbinato vitamina C e ferulico rendendolo un antiossidante potentissimo mi incuriosisce molto, molto, molto. Stessa linea per completare la routine di trattamento abbiamo la Vitamin C Lotion, e anche questo quindi è un idratante che contiene vitamina C e ferulico, e questo è invece il Vitamin C Caviar Balm, sempre vitamina C e ferulico, che è una Live On Mask. Quindi abbiamo creato proprio tutta l'idea di trattamento, dalla maschera che non si risciacqua, alla crema viso 24 ore, siero, detersione e tonico. Questa comunque è, adesso devo controllare i prezzi, però è una skincare routine che sicuramente, anche fatta tutta, ho paura che anche acquisiamo tutto non arriviamo a spendere come un siero, no, non ci arriviamo, come un solo siero di SkinCeuticals. Ecco perché, vabbè lo chiudo dopo, ecco perché mi incuriosiscono questo tipo di referenze, perché posso, se funzionano, posso veramente consigliarvi, aiutami per cortesia, sorry? Regia, help, non so dove metterlo, help! E stavo dicendo, mi possono, possono aiutarvi a trovare prodotti che performano, che non vi sa, sono conti in banca. Ora, rimaniamo ancora nella vitamina C, perché non è soltanto il mio ingrediente preferito, credo che sia uno degli ingredienti più richiesti sul mercato, con l'arrivo dell'autunno-inverno. E fresh, è arrivato finalmente in Europa. Non è una novità il brand, ma è una novità questa linea. E, soprattutto, sono una novità questi kit, che sono in vendita, e che ho acquistato su Cult Beauty. Io ne ho acquistato uno, ma ne esistono, se non sbaglio, tre tipi, da quello più basico, a quello proprio super anti-age, no, quattro tipi, quello purificante, e quello la vitamina C. E questo è quello che io ho acquistato, ed è un'ottima occasione per provare fresh. Se invece non volete acquistare un kit come quello che vi mostrerò, trovate anche i loro top seller in versione piccolina. Infatti, io ho comprato anche alcune mini-size. Dunque, questo kit contiene questi prodotti, che sono il famosissimo Soy Face Cleanser, che è il loro detergente a base di aminoacidi, vise occhi, a me questo piace molto, ce l'ho anche in mini-size. Questo, comunque, è un formato da 50 ml. Poi abbiamo... Allora, questa è la nuova linea, la Vitamin Nectar, quindi una linea vitaminica, ed è antiossidante. Questa è la Glow Water, quindi che cos'è? È una mist per il viso illuminante antiossidante, che si può utilizzare sia da sola come tonico, che durante la giornata, che sopra il make-up. Poi, nella kit è presente la Vitamin Nectar Moisture Glow Face Cream, con la Vitamin Fruit Complex, quindi è una crema viso che contiene vitamine e frutti, praticamente, con un complesso di vitamina C, E e B5, limone e arancio in estratto, minerali e, dunque, minerali rivitalizzanti per una glowing complexion, e poi contiene glucosil e sperdin, che è un derivato naturale dei flavonoidi nel limone, che aiuta a combattere la pelle stanca, e si applica mattina e sera. Ultimo prodotto contenuto nel kit, che comunque, sono tutti prodotti che sono in vendita anche singolarmente, è la Vitamin Nectar Vibrancy Boosting Face Mask, questa da 30 ml, ed è una maschera effetto super illuminante e smooth, quindi lisciante sarebbe. Questo è il contenuto del kit. Vi sottolineo che però, ho comprato a parte come una capra, non ho portato qui per girare il video, esiste in questa linea una roba stranissima che, infatti, ho comprato, e sono delle bustine monodose di trattamento tipo urto alla vitamina C, come una sorta di maschera, che però, semplicemente, la bustina si massaggia con l'acqua, cioè si massaggia sul viso, una volta miscelata con acqua, e poi si sciacqua, sono curiosissima. Bene, poi, una novità, invece, molto curiosa, due novità, di un brand che, in realtà, nasce per il segmento make-up, e che adesso si addentra nel segmento skin, sto parlando di Too Faced. Io questi li ho presi sempre su Look Fantastic, come sempre. Allora, sono usciti due prodotti. Il primo è L'Hangover Good In Bad, quindi segue un po' il fil rouge dell'iconico primer hangover, ed è un Soothing and Glowing Ultra Replenishing Hydrating Serum. Quindi, uno scioglilingua per dire che è un siero super riempitivo, idratante e lenitivo. contiene acido ialuronico, acqua di cocco, dragon fruit e vitamina B5. Io sono, ero, e sono forse, un po' titubante, perché tendo a preferire i prodotti che hanno dietro delle aziende con expertise, ricerca in ambito cosmetico, eccetera, però voglio comunque provare. Sono sicura che questa linea sia comunque più rivolta a quelle fusion tra skin care e performance del make-up. Il secondo prodotto si chiama Hangover Good To Go, ed è un Skin Protecting SPF 25 Moisturizer, quindi è un idratante per il viso con SPF 25, che protegge da raggi UVA e UVB, viene definito idratante leggero, anche se ho visto un paio di video che dicono che invece la texture è piuttosto spessa, cioè presente più che spessa. Ve lo dirò. E poi, un prodotto che è una novità e che ho acquistato per creare appunto la mia skin care routine alle vitamine, è la novità di Ofra, che si chiama Foaming Kiwi Cleanser, è un Daily Gentle Foaming Cleanser, appunto, ricchissimo in vitamina C, ed è uno dei primi prodotti che arrivano in Europa della skin care Ofra, Ofra è un brand di make-up, anch'esso, Sweet AF, c'è scritto, allora, Just saying kiwi is fun, allora, con una dose di antiossidante a base di kiwi, ciao vitamina C e vitamina E, è una schiuma delicata, che aiuta a rigenerare il collagene e proteggere la pelle dei radicali liberi, Death Age Skin, no thank you, quindi non vogliamo che la pelle invecchi, si usa uno o due pump, eccetera, non è uno stroccante, è un detergente, quindi prima si strucca la pelle, poi si passa a questo, poi, ho quasi finito, ecco le novità skin care, vi tengo le ultime due aziende per ultime, perché sono sicuramente quelle che, ok, allora, questa azienda è un'azienda che si chiama Satur Day Skin, adesso qualcosa si trova anche da Sephora, ma veramente pochissimo, Satur Day Skin è uscita con una nuova linea di skin care, ok, che si chiama, non si chiama, perché hanno due nomi diversi, comunque, ok, hanno, sono a base di un peptide particolare, che si chiama Cha 7S Complex, che è un trademark, ed è un esclusivo peptide, che promuove i naturali processi di rigenerazione della pelle, e, dunque, il siero si chiama Bright Potion, ed è a base di probiotici, e la crema si chiama Pretty Pop, ed è una probiotic powered whipped cream, quindi quelle creme fuette, quasi come la panna montata, no, per capirci, allora, viene definito Brilliance in a Bottle, è un potente siero, ricchissimo in probiotici, incapsulati, attivati dai prebiotici, come sapete adesso, prebiotici e probiotici, sono molto richiesti, nella skin care routine, perché si è scoperto, proprio le funzioni che vanno a svolgere, nell'ambito del creare, una condizione di salute per la pelle, perciò adesso, insomma, anche ad esempio, la linea di Mouad, e la mist, di cui avevo parlato, era a base di probiotici, qui abbiamo pre e probiotici, creati in una soluzione potente, per una pelle luminose and healthy looking, per quanto riguarda la crema, unveil your luminosity, quindi parliamo di luminosità, una crema anche qui, con probiotici incapsulati, attivati dai prebiotici, abbiamo 4 per probiotici, per una healthy complexion, e 2 per probiotici, per attivare il potenziale totale, dell'infusione di probiotici, e poi contiene niacinamide, per migliorare la texture della pelle, sono molto curiosa, molto molto curiosa, e adesso vi dico una cosa, allora, questi prodotti a catalogo, sarebbero se non sbaglio, 46 sterline uno, e 42 sterline l'altro, io credo ci sia un errore, su Beauty Bay, o magari è un regalo, che fanno a tutti noi, perché li ho trovati a 15 euro l'uno, quindi praticamente uno sconto, del 75%, io vi lascio il link, speriamo che siano ancora di quel prezzo, poi, una cosa che non è propriamente skin care, ma è un tool per la skin care, che mi ha incuriosita da subito, ed è di It Cosmetics, e si chiama Heavenly Skin, 2 in 1 Tap & Smooth Brush, e per praticamente, allora, è un groundbreaking, anti-aging skin care, infused brush air, dunque, questo qua, come si utilizza? Allora, è un dual ended brush, quindi ha due estremità, uno per applicare, il nostro contorno occhi preferito, quindi palo del pennello, e dall'altra parte, invece, abbiamo una pietra, che si utilizza per rinfrescare, e massaggiare il perioculare, ora, è stato, dunque, sviluppato con dermatologi, testato, igienico, per tutti i tipi di pelle, sto cercando di capire, con che cosa sono infuse le setole, ma non c'è scritto, e questa cosa mi uccide, perché? Ah, sì, 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 allora, le heavenly skin care, sono infuse con anti-aging collagene, seta, peptidi, niaccina, e anti-ossidant, quindi, questo piccolo pennello, è tipo, ricchissimo di principi attivi, ora, non so, dopo quanti lavaggi, questi principi attivi, vadano via, non ve lo so dire, però, l'idea di questo applicatore, massaggiatore per il perioculare, mi ha fatto impazzire, veniamo ai tre prodotti, che proprio, c'è i tre, le tre uscite, prima però, prima cosa, è la novità di Ole Ericsson, e si chiama, Fat, o Pat, non so come si legge, PH di solito F, però dipende in che lingua, quindi, leggiamolo Pat, vabbè, Glow Facial, quindi, che cos'è? Allora, io l'ho comprato perché, ho visto un sacco di video, sponsorizzati e non all'estero, da Ole Ericsson, e chi lo usa, dica praticamente, che ti cambia la pelle, e quindi, io l'ho voluto, allora, è praticamente, un esfoliante, è una maschera viso, allora, si applica per 15 minuti, si utilizza due volte a settimana, di giorno o di notte, si può utilizzare prima dell'applicazione del make up, contiene, PHA, che sono un concentrato di acidi, e Nordic Birch Sap, che non so cosa sia, sono molto curiosa, c'è qualcosa scritto di più? Qui forse? Ah, eccolo qua, abbiamo qualcosa scritto di più, dietro, dunque, è, infatti, è ricco di polidrossi acidi, che aiutano a ritexturizzare la pelle, ed è una one step message, attivati il facial, che, tratta, linee sottili, rughe, macchie scure, e pori, oltre a idratare, e rendere la pelle più smooth e luminosa, ah, è il get ready with me, essenziale, per un party, dove nessun filtro è necessario, regalandoti l'ole glow, molto curiosa, molto curiosa, molto, molto, molto curiosa, vi farò sapere, soprattutto se lo tolero, perché io ho una pelle molto, molto reattiva, penultima meraviglia, di questo ne parleremo, in un video dedicato, quando sarà il momento, sapete che faccio parte, tuttora di un progetto, con Estée Lauder, della quale sono molto fiera, ma vi anticipo, perché mi avete chiesto, che, allora, anzitutto, Estée Lauder, sono 35 anni, che fa ricerca, nell'ambito del swan, per la notte, e quindi, sulla base del ritmo circadiano, com'è importante, trattare la pelle di notte, che benefici ne possiamo trarre, comunque, va ad, ampliare, la famosissima linea, Advanced Night Repair, con il nuovo, Advanced Night Repair, Intense Reset Concentrate, allora, quando io ho visto, la presentazione stampa, di questo prodotto, c'è, allì, dietro, una ricerca tecnologica, impressionante, sono rimasta a bocca aperta, comunque, questo, va a trattare, va proprio, viene utilizzato, nei momenti in cui, la pelle, ha veramente bisogno, quando è infiammata, stanca, non è come dovrebbe essere, non è in salute, fondamentalmente, ed è un, viene definito, un rigenerante intenso, appunto, ha una serie di brevetti, depositati, e pending, quindi ancora da, da provare, tratta le irritazioni visibili, aiuta la luminosità, la pulizia della pelle, arichissimo di antiossidanti, ripara i danni, dai radicali liberi, ai quali noi siamo esposti, durante la giornata, contiene un, multi molecular, weight hyaluronic acid complex, fantastico, questo prodotto, ha veramente, tanto, tanto, tanto da dire, ed è perfetto, abbinato anche, al classico, advanced night repair, zero, e ad un altro prodotto, che vi mostrerò, molto presto, comunque, niente a che fai, con estelode, con progetti, ve ne voglio solo per live, perché fa parte, le novità skin care, ovviamente, questo mi è stato omaggiato, ultimi due prodotti, che mi sono stati omaggiati, non ultimi per importanza, anzi, Dior, dopo, diverse ricerche, ovviamente, migliora, ulteriormente, due suoi top seller, nell'ambito skin, e sto parlando, della linea, Capture Total, Dream Skin, come primo prodotto, riformulato, abbiamo il Dream Skin, Care and Perfect, voi sapete, quanto io amo Dream Skin, lo utilizzo da secoli, è uscito poi, il Dream Skin Advanced, e adesso abbiamo invece, il Care and Perfect, è stato migliorato, a livello texture, quindi una texture, ancora più leggera, con molti attivi, che vanno a lavorare, anche sulla mise mute immediata, della pelle, quindi luminosità, uniformità della grana, e del colorito, oltre a un trattamento, efficace nel tempo, e adesso, va a lavorare, in un modo, immediato e duraturo, ho visto anche, degli studi, molto interessanti, in termini proprio di foto, prima e dopo, rughe, pori, macchie, rossori, e colorito, spento, già mi piaceva prima, non oso immaginare, cosa sarà adesso, quindi, va a offrire, una pelle, sempre più, perfetta, giorno dopo giorno, nell'immediato, e, ci ripropone, anche in nuova veste, la One Minute Mask, che è una delle mie maschere, da fare, quando trucco, ad esempio, le spose, preferita in assoluto, sta avvenendo un temporale, che sentite che tuoni, cioè, oh mio Dio, comunque, è una maschera, che va a perfezionare, la giovinezza, contiene, alfa idrossi acidi, ovviamente, è esfoliante, e, e la pelle, appare rinnovata, in un solo minuto, ed è, comunque, una formula, che viene definita, gentle, quindi, anche io, con la pelle molto reattiva, vi posso garantire, che usavo già la formula precedente, e riuscivo benissimo, vi fa cambiare, immediatamente, il colore della pelle, qualcosa di incredibile, andate magari, da sé, fuori dalla vostra profumeria, chiedete un campione di questa, perché vale veramente la pena, e non vedo l'ora, di provare questa, quindi, questa nuova formula, parla proprio, di trasformazione spettacolare, della pelle, è una texture, gel, fresca e rosa, appunto, che si trasforma, in una crema bianca, untuosa, per una trasformazione, spettacolare, della pelle, e va a liberarci, dai segni della fatica, lenisce la pelle, la rende, idratata, e radiosa, adoro, bene, queste sono, più o meno tutte, le novità, skin care, sul mercato, sono super, super curiosa, mi metto subito all'opera, e fatemi sapere, se anche voi, avete acquistato qualcosa, di questa novità, se vi è già piaciuto qualcosa, se vi incuriosisce qualcosa, più di qualcos'altro, in questa lista, o se ad esempio, volete che io inizi subito a testare, qualcosa che avete visto qui, e che io vi faccia un video recensione, dedicata, proprio sui risultati che ho ottenuto, fatemi sapere tutto nei commenti, un bacione, e al prossimo video!